Questa è la storia di un ragazzo che per scappare dalla povertà e realizzare il proprio sogno ha venduto la propria anima e ne rubato un'altra. E già che c'era, si è ringiovanito anche un po'. Oggi parliamo di Luciano, una alla destra brasiliana con una doppia identità. La prima è appunto quella di Luciano, nato nel 1975. La seconda invece è quella di Riberto, nato nel 1979. Una sola persona, due identità. E no, non è un caso di reincarnazione ma un caso di frode dell'età, ovvero dichiarare un'età minore per poter iniziare una carriera da calciatore. Questo è il racconto di uno dei più clamorosi furti di identità della storia del calcio. Il caso di Riberto esplode nell'estate 2002. Dopo un grande campionato con il Chievo di Del Neri, l'esterno brasiliano ha pronto da firmare un ricco contratto con la Lazio. Il trasferimento però salta quando il giocatore svela la sua vera identità, rubato a un contadino qualche anno prima. Luciano cresce a Rio de Janeiro proveniente da una famiglia molto povera. Diventa bruscamente uomo all'età di 6 anni, il giorno in cui perde la madre. Vita in salita e maniche da rimbocare in fretta. Qualche anno dopo perde anche il padre. Rimane così con i fratelli e si dà da fare, con qualche lavoretto sudando ogni giorno per procurarsi da mangiare. Poi corre in strada, rincorrendo quel sogno chiamato calcio. A talento è innegabile, è una grande forza di volontà, ma viene da una situazione di estremo disagio ed è disposto a tutto per realizzare il proprio sogno. A 21 anni succede così che un agente che non si fa troppi scrupoli, noto dal suo talento calcistico, gli propone un cambio di identità con dei documenti falsi, in modo da poter sostenere dei provini con importanti squadre brasiliane. Provini che altrimenti non gli sarebbero stati più concessi, avendo già superato i 20 anni. Nel calcio non è raro, tra i giocatori appartenenti hanno azioni cui i dati non sono facilmente verificabili. Come il Brasile appunto. I 21 anni diventano così improvvisamente 18 quando Luciano prende l'identità di un contadino all'oscuro della situazione e diventa ufficialmente Eriberto. Corre l'anno 1996. Sostiene alcuni provini e a 18 anni viene tesserato dal Palmeiras, con cui inizia a giocare nella Serie A brasiliana. Il ragazzo non è un granché, ma in fondo ha solo 18 anni. Lo prendono e ci lavorano su. Viene schierato dalla destra quando lo nota l'allora DS del Bologna Oreste Cinquini, che decide di portarlo in Italia nel 1998, versando 5 miliardi di lire nelle casse del club brasiliano. Per Eriberto, a 19 anni, inizia l'avventura italiana. Trova subito la fiducia di Mazzone, che apprezza il suo impegno in allenamento e lo schiera subito. Complessivamente, fra Intertoto, Coppa UEFA, Serie A e Coppa Italia, gioca 54 gare in due stagioni, realizzando 4 gol. Disputa anche alcune gare con la nazionale under 20 del Brasile, con la quale in realtà non avrebbe nemmeno potuto giocare. Nel complesso, un giocatore con del potenziale, ma anche molto pasticcione. Così nel 2000 il Bologna preferisce cederlo, in comprobabilità in Serie B, al Chievo per 2 miliardi. E in quel 4-4-2 che Del Neri metteva in campo come pochi altri, le ali volano sul serio. Segna 4 gol in 35 presenze di Serie B, dando un contributo fondamentale per la promozione della sua squadra in Serie A. Nel 2001 i Veneti riscattano l'altra metà del suo cartellino per 2 miliardi e mezzo di lire. Eriberto, anche in Serie A, è grande protagonista con la maglia giallo-blu. E con il Chievo dei Miracoli, che chiuderà la stagione al quinto posto in classifica, aggiungerà alla sua collezione 30 presenze e 4 gol. Vola anche la quotazione di mercato di quel Chievo, con Corini, Perrotta, Corradi, Marazzina, ma in quel momento soprattutto il brasiliano è al top della sua popolarità. Su di lui mette gli occhi la Lazio. Il Chievo si vede offrire 18 milioni di euro. Dopo averlo preso dal Bologna, si prospetta una bella plusvalenza per la società di Campedelli. In fondo il ragazzo ha appena 23 anni, nato il 21 gennaio 1979, come dice la carta d'identità. Cragnotti mette sul piatto un ricco quinquennale per il ragazzo, ma proprio nel momento più atteso, Riberto sparisce. Fuga in Brasile, dicono. Con il permesso del Chievo, aggiungono. Il giallo però tiene tutti sulle spine, non solo quelli della Lazio, perché tra le motivazioni che trappelano attraverso l'agente del giocatore ci sono dei non meglio specificati seri, anzi serissimi problemi personali. Riberto si è incontrato con i suoi avvocati in Brasile e insieme hanno deciso la linea difensiva da sostenere. Il problema dunque sembra essere di natura giudiziaria. Poi aggiunge, ha deciso di non rimandare oltre questa storia. È un passo che andava fatto e che lo riporterà in vita. Così, nell'agosto 2002, l'identità falsa di Riberto muore e Luciano rinasce per la seconda volta. Parla subito, poche parole, che nascondono la storia triste di un ragazzo cresciuto senza genitori che lavorava sin da bambino per poter anche solo mangiare e diede retta alle persone sbagliate pur di arrivare dove sognava. Il mio nome vero è Luciano, non è Riberto. Non ho 23 anni, ne ho 26. Ecco svelato il mistero. Squalificata inizialmente per 18 mesi alla fine ne sconterà solo 6 disqualifica. Pena ridotta di un anno per l'ambizione del giocatore e per il suo palese pentimento. Il trasferimento alla Lazio naturalmente salterà. La stagione seguente sull'Albunpanini però ritroviamo la figurina di Riberto. Ora Luciano, nuovamente al Chievo. Si delineano presto tutti i contorni della vicenda. Quando viveva a Rio, gli presentarono un procuratore che come Lucignolo gli indicò la cattiva strada per farcela. Documenti falsi, generalità rubate e provino al Palmeiras. Due anni dopo era già al Bologna, in Serie A. Ma il rimorso, il pentimento, forse la paura di essere scoperto inizia a farsi sentire. Man mano che il giocatore diventa sempre più affermato e sta per compiere un grande salto verso una big. Come racconta lui stesso, più passava il tempo e più si faceva delle domande. Sarebbe potuto andare alla Lazio e guadagnare tanti soldi ma non riusciva più a reggere il peso della bugia. E poi voleva che suo figlio portasse il suo vero nome. Luciano è approdato ugualmente in una big, l'Inter, nell'estate del 2003 ma senza più ritrovare quello spunto di quando si fingeva più giovane. Sembra quasi che dopo essere tornato al suo vero nome e alla sua vera età, quel giocatore si sia un po' perduto. A gennaio 2004 è già tornato al Chievo dove resterà per altre nuove stagioni. Fino a 37 anni compiuti e stavolta reali. Chiuderà la carriera da calciatore poi nel Mantua in Lega Pro. E' il vero Eriberto nel frattempo, quello a cui era stato rubato il nome e che fine ha fatto. Le cronache narrano del tentativo di spillare qualche soldo intentando una causa per danni morali. Tentativo andato a vuoto. Giustizia insomma è fatta. Per Luciano l'errore più grosso della propria vita gli costa sì il contratto più importante della sua vita ma lo porterà anche a coronare il sogno di milioni di ragazzini di tutto il mondo quello di diventare calciatore professionista per di più in Europa. Così passerà agli annali uno dei più clamorosi furti di identità della serie del calcio. E voi cosa ne pensate? E' un truffatore che andava punito più duramente, pure un genio dato che grazie a queste scamotage ha ottenuto dei provini e ha avuto comunque una carriera molto importante da professionista. Se questo video ti è piaciuto iscriviti al canale per non perdere nessuno dei prossimi video. Ci vediamo presto, ciao!